Ciao Giulio, sei ancora meglio nell'inglese del primavera? Vuoi fare l'inglese? Siamo bene nell'inglese. Non ho parlato l'inglese dalla Tour de France. Giulio, cosa succede a te nella Tour de France? O come si riuscite la build-up fino adesso? Aspetta che mi hanno un attimo... Vai! Come sei a te nella Tour de France? Come si preparati alla fine della season? Sì, dopo la Tour ho avuto un lungo stop. Ho avuto quasi due settimane senza bicicletta perché ero sicko. Una settimana ero un restato normale e una settimana ero sicko. Allora ho avuto un restato extra. Ma poi ho avuto un restato normale programma e ora sono pronto. Ho avuto in Luxemburgo due settimane e il mio sentimento è sempre migliore. Allora siamo qui in Italia con le ultime tre raci. Emilia, Treballi e Lombardia. Mi piace molto questa raci. Especialmente oggi. Siamo pronti. Abbiamo una forte squadra. e ci vediamo. E come fare oggi? Hai detto che ti piace molto questa raci. Ci sarà l'ultimo aspetto di San Luca? O possiamo avere una raci davvero open? Cosa aspettate? Normalmente è difficile da dire perché ogni anno cambia il finale della raci. abbiamo una nuova raci che abbiamo fatto già l'anno scorso ma non ho mai fatto. Prima di San Luca. Credo che sarà più difficile il finale. Per sicuramente siamo arrivati in San Luca in l'anno scorso scorso. Quindi speriamo di essere davvero open la finale. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.